Nella software house di Paolo lavorano ragazzi giovani, pieni di iniziativa, i clienti sono soddisfatti e arrivano sempre nuovi progetti. Oggi Paolo ha firmato il contratto con un'importante catena della GDO per sviluppare un'app innovativa basata su un motore di intelligenza artificiale. Per la sua azienda è un salto di qualità. Paolo riunisce il suo gruppo di ragazzi e illustra il progetto. Sono tutti entusiasti e iniziano subito a buttare sul tavolo nuove idee. Solo Tommaso si guarda intorno costernato. Proprio ieri ha combattuto tutto il giorno con continue interruzioni di corrente. La settimana scorsa è riuscito per un soffio a evitare il disastro dopo che un virus era penetrato nella rete aziendale. E non ha dimenticato lo sconforto dello scorso gennaio quando i ladri, penetrati in azienda, avevano rubato due dei tre server. Tommaso sa di cosa c'è bisogno, ma la piccola software house non potrà mai permettersi un investimento di quella portata. L'unica soluzione è affidarsi a un cloud provider. Paolo è preoccupato, teme che la sua azienda sia troppo piccola per avere un servizio di qualità. E poi i costi. Sarà davvero conveniente. E adesso, con tutte le nuove normative, dove andranno a finire i dati dei miei clienti? Ma Tommaso ha la soluzione. Il cloud di Aruba. Ancora una volta, Tommaso ha la risposta alle titubanze di Paolo. Con il cloud di Aruba, configurare la propria infrastruttura è semplice come acquistare un computer su un sito di e-commerce. Il preventivo è immediato e il costo certo. Non è necessario altro per convincere Paolo. È tutto pronto, ma Tommaso non è sicuro di quale sia la procedura migliore per migrare applicazioni e dati. Niente di più semplice. Con pochi clic si mette in contatto con l'assistenza Aruba e viene supportato nella transizione. Si inizia a lavorare con la nuova infrastruttura. La ridondanza di tutte le fonti di energia, dei sistemi di raffreddamento e delle connessioni di rete dei data center Aruba garantisce la continuità del servizio. Dati e applicazioni sono al sicuro da qualsiasi attacco e Paolo sa sempre dove si trovano. E se il progetto richiede nuova potenza di calcolo per un test, non c'è problema. Dal pannello del cloud di Aruba, Tommaso acquista un'altra macchina virtuale per il tempo necessario e può dimenticarsi dell'infrastruttura tecnologica per concentrarsi sullo sviluppo della nuova app. Grazie al cloud di Aruba, Paolo e il suo team rilasciano l'app nei tempi richiesti. Crea ora la tua infrastruttura virtuale. Vai su www.cloud.it Grazie a tutti.